ciao a tutti ragazzi benvenuti su questo nuovo video ragazzi sono Fabix oggi ragazzi siamo su Clash of Clans eh Clash of Clans Clash Royale siamo a quattro a quarto baule no siamo troppo non sono mai online la gente non è mai online ora guardo il baule guardiamo un po' il baule io sono decimo perchè ho fatto due stamani e guardate quanti zero no davvero eh ma guarda non li so io per non prendere quelli che sono l'ultimo ho fatto un casino però non li prendono però c'è una battaglia vai 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 ben un po' di danno però stavo vincendo quell'uomo di per ora bocciatore e poi non mi ritorno neanche i bocciatore che oggi è domenica che possiamo richiedere anche le epiche quindi che se bocciatore non me lo dono tanto quell'umore aspetto una bella morte veloce danni 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 ma lanciata anche la lo so che non c'è un dono madonna madonna con quel con quel manco ma porca barbari barbari porca puttana barbari di mar oh mi so fatta anche sgherri a 9 mi so fatta barbari ho anche sbagliato a tirarla però danni danni quelli ti ha grandi danni lui mi ha fatto anche la torre ecco lo stavo per dire guarda beh frecce muoiono tutti questo mi stavano a fare mi incazzare questo un bastardo possa c'è un po' possa bastardo bastardo madonna ma porca ma porca non c'è no eh dai ma merda ma merda no ma davvero stavo scherzando almeno una stella almeno una stella no ma guarda no ma guarda no no perso questo battaglio però ragazzi nello stazze royale controllato che io posso avere fra 12 fra 12 bauli io trovo fra 12 bauli trovo ragazzi trovo fra 12 bauli trovo il baule leggendario e fra 172 bauli trovo il baule super magico bella davvero raga no chi no chi online deve fare battaglia del clan chi è on perché chi online perché ce ne sei andata la so chi online fa la battaglia la 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 e la ragazzi bisogna di così per farlo davvero bisogna di così tra 12 bauli trovo le leggendari per quelle schede no maria non ci credo perchè non ho sbagliato anche cosa mi ha sbagliato il buon barolo di merda sei un frocio sei andiamo cioè l'estrattore di lesir ha spiegato tutto lesir boom boom ragazzi dai dai fin a spiegare tutto lesir per il golem ora mi devi caricare le lesir a me frecci per distruggere qualcosa non ci credo ma morite ammazzati cioè non ci credo dai non può farmi una stella così non può non può non può non può dai dei boss gaming il suo clan FFR che bel clan doma torri 2 allo 6 attacca attacca dai attaccatore attaccatore 1 nooo oh ma porca zoccola porca zoccola ora tu devi morire i cazzo dai ora devi morire dai 2 alleluia 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 dai alleluia su il barbaro scelta attacca l'attore il barbaro scelta attacca l'attore alleluia alleluia non alleluia alleluia e alleluia a non mi ha detto se facciamo pareggio ma se facciamo pareggio no che tanto non si guadagna nulla su no non ci credo non ci credo raga mi ha perso un pareggio almeno una vinta almeno ho 11 pauli e già andare almeno qualcosa invece di quello ok però ok ma porca merda cioè me ne vado dal gruppo no del clan me ne vado dal clan killer bang il clan di bang dai flash royale davvero ma dai ma merda perchè trovo quelli scriptati muori merda di una valchina puttana madonna cazzo 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 ci ha messo la scarica fottuti tutti domatore almeno te fai qualcosa tanto l'ordine di scheletri l'ha consumata no ma no che ti cazzi ne mi cazzo io ma io ti ti esistisco perché mi da noia diciamo dai cavolo dai cavolo dai cavolo dai cavolo dai ma merda la torta di archi riette le fine nello non vengono un battito il sole dai su meno questa partita la vinciamo bisogna vincerla non mi fai dare un'altra sorella il bastardo svegliato ma merdone c'è merdone guarda donna madonna tu madre dal suo al me ma porca puttana no porca puttana no porca puttana no no porca puttana no porca ma non si può così cioè non si può ma lo sapevo e la perdiamo giustamente la perdiamo giustamente la perdiamo giustamente giustamente la perdiamo ma porca merda porca almeno una testa clan andai ora sto bucciando di a clash royale ora si perde anche questa no 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 perchè mi sono andato in fondo ops 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 un cazzo ops madonna eravamo già messo la veleno che mette loro di scherzi si perde ragazzi ma puttana puttano i roccheneo ma muori male ma muori male ma guarda che ordo se c'aveva tronco era già fottuta e si vinceva mi sa oh una torre fatta abbiamo fatto ho messo la torre la zap metti la zap perchè ho messo ho messo la torre ho messo la torre No, lì ci frega. Che coglione! Posso mettere l'accoglionamento lì! Che coglione! No, non è un coglione, non è un coglione, ma ti... Vattene via, vattene via, stronzone. No, si perde tutto! Beh, ragazzi, questo video è finito qui, e ne abbiamo tanti video di pollice in su, commentato come se siete al prossimo video. Ciao!